Pietro Testa, vice sindaco del comune di Riccia, che da quest'anno patrocina la 21esima edizione del torneo Madonna del Carmine. Da che cosa è nata questa idea di patrocinare questa importantissima manifestazione? Questa è una manifestazione molto importante per Riccia, ci dà sfogo a livello regionale e anche nelle regioni limitrofe. Noi siamo molto lieti di ospitare la presentazione proprio qui nella sala consigliare. Il comune ha sponsorizzato il trofeo che da 21 anni si fa questa manifestazione e quest'anno ricorre anche il ventennale che la Madonna del Carmine è diventata copatrona insieme a Sant'Agostino. Quindi si uniscono le due cose, loro erano partiti già da un anno prima che la Madonna del Carmine era copatrona. A livello di crescita comunitaria, quando può aiutare una manifestazione di questo genere che richiama anche persone da fuori città e da fuori regione? È chiaro che al di là, a parte che lo sport è sempre importante, siamo sempre molto orgogliosi quando si fanno queste attività e quando magari si tolgono pure i ragazzi dalle strade e vanno a giocare a calcio e lo fanno in maniera seria, sana e puntuale come fanno loro ogni anno. È chiaro che un po' di economia nel paese si muove perché ci sono movimenti sia legati al torneo sia legati anche al fatto religioso perché ci sono vari appuntamenti e il calendario è molto ricco, sia dalla festa in sé per sé, quella civile, dal concerto del 15 e del 16. Poi ci sono tutte le varie attività religiose e qui c'è una tradizione che la Madonna viene spostata dal Carmine, va in chiesa madre e poi riportata il giorno dopo. Quindi la novena, nove giorni, si crea un po' di movimento. I riccesi che stanno all'estero per la maggior parte tornano in questo periodo e siamo molto contenti di potergli offrire un po' di tutto, dal calcio, alle feste, alla parte religiosa e quant'altro. A livello di impiantistica sportiva il Comune di Riccia, a che punto è e quali sono eventualmente i programmi futuri per migliorare questo aspetto? Dal punto di vista del campo, poi c'è di nuova realizzazione. Appena abbiamo iniziato la scorsa amministrazione, quindi cinque anni fa, abbiamo messo il campo in erbetta sintetica. Quindi dal punto di vista del campo sta benissimo, abbiamo fatto la copertura con pannelli solari delle tribune e quindi diciamo che come struttura a livello calcistico siamo a posto. Ora per fine anno prevediamo di realizzare un campo bocciotrimo comunale coperto perché anche quello è uno sport che prende una fascia d'età sia giovane ma soprattutto persone di età più avanzata.